A chi piacciono le capre? A me sicuramente, sono tra i miei animali preferiti della fattoria dopo le mucche Allora, per dipingere questa bella capretta ho utilizzato le gouache e sono partita con delle tonalità d'ombra, quindi molto fredde Sono poi passata al nero, che però non l'ho fatto con il nero ma con i tre primari messi insieme Ho aggiunto tutte le belle macchioline, un puntino per l'occhio ed eccola qua finita Se volete vedere il processo completo andate sul mio canale YouTube Grazie